Bene, con la classifica dei film si conclude questa puntata di Telex e per quanto mi riguarda l'ultima puntata di Telex perché come avrete intuito dal taglio di capelli parto militare. Nelle ultime puntate solitamente si fanno i ringraziamenti e io ringrazio innanzitutto gli editori di questa emittente, il direttore generale, il direttore del telegiornale Giampaolo Cresci, tutti i miei colleghi della redazione del Quotidiano e tutti i tecnici che hanno permesso questa bella esperienza. In ultimo un saluto e un ringraziamento speciale va a voi il pubblico che mi avete seguito con attenzione durante tutti questi mesi. Arrivederci.